ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare ovix a cosa serve ovix a un integratore appartenente alla categoria degli integratori di vitamine e minerali e commercializzato in italia dall'azienda guna spa informazioni commerciali titolare guna spa concessionario guna spa categoria di appartenenza integratori di vitamine e minerali forma farmaceutica compressa confezioni ovix 60 compressi 15 g indicazioni integrazione nel trattamento degli stati allergici utile nelle riniti allergiche stagionali e persistenti cosa come negli eczemi su base allergica modalità d'uso sciogliere le compresse sotto la lingua per circa 1 minuto come integratore nella fase di prevenzione bambini 3 12 anni 1 2 compresse al giorno 12 16 anni 1 3 compresse al giorno adulti 3 compresse al giorno come integratore nella fase di mantenimento bambini 3 12 anni 1 2 compresse al giorno 12 16 anni 1 3 compresse al giorno adulti 3 compresse al giorno come integratore durante gli stati allergici. Bambini 3-12 anni. 2-3 compresse al giorno 12-16 anni. 3-5 compresse al giorno adulti. Secondo parere medico, 6-12 compresse al giorno. Descrizione e caratteristiche. Ovix integratore alimentare a base di omogenato di uova di quaglia e zinco. Caratteristiche dei componenti Ovix. L'uso delle uova di quaglia selvatica, della specie Coturnix japonica varietà Bimina, ha le sue radici nella medicina tradizionale giapponese, che utilizza da oltre 400 anni le uova di quaglia per prevenire le crisi allergiche. In Europa, negli ultimi 30 anni, esperimenti di laboratorio e ricerche cliniche hanno verificato le basi scientifiche della tradizione giapponese, evidenziando come la integrazione alimentare con uova di quaglia supporti un'attività modulatrice della reazione allergica, sia a livello cellulare che umorale, durante la terapia specifica delle allergie. Si ha infine realizzato un procedimento industriale brevettato che permette di selezionare solo la parte specifica dell'uovo di quaglia e la realizzazione di compresse a bassissimo contenuto di omogenato di uova. Lo zinco ha un minerale essenziale per l'organismo ed entra nella composizione di moltissimi enzimi. Negli stati allergici, lo zinco risulta utile come regolatore della risposta immunitaria, in particolare, lo zinco gluconato migliora la biodisponibilità e il sapore. Nell'ambito della vasta problematica delle patologie allergiche, OVIX trova utilizzo come supporto alle cure più ammirate e specifiche. OVIX ha disponibile anche in crema per uso esterno. Avvertenze L'uso di OVIX durante la crisi allergica deve essere inteso solo come coadiuvante. Il suo utilizzo non deve intendersi come sostitutivo del trattamento farmacologico e deve essere assunto sotto stretto controllo medico. Conservare il prodotto in luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce. La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni di età. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta varia, equilibrata di uno stile di vista sano. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Contiene uova. Allergeni contiene uova. Ingredienti edulcorante. Sorbitolo. Omogenato di uova di quaglia i jekalm. Agenti antiagglomeranti. Sali di magnesio degli acidi grassi. Bisglicinato di zinco. Edulcorante. Sucralosio. Fonte, codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo, integratore alimentare esaminato. Grazie per avermi seguito.